E continuiamo con la cronaca ma ci spostiamo in Campania dove è stato smantellato dalla direzione di settuale antimafia dai carabinieri di Salerno un giro di scommesse online illegali da 5 miliardi di euro che era attivo non soltanto in mezza Italia ma anche all'estero. Ci dice di più Gianni Occhiello in diretta dalla redazione di Napoli. Sì buongiorno, oltre 5 miliardi di euro in due anni profitti da capogire o dal gioco illecito online per finanziare clan criminali come quello dei casalesi e altri in Italia e all'estero. 33 le misure cautelari scaturite da un'inchiesta della DDA di Salerno ed eseguite in 11 regioni italiane tra le quali Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Lazio, Lombardia e all'estero Panama, Romania e Malta. I reati vanno dall'Associazione per delinquere all'intestazione fittizia di beni al riciclaggio e autoriciclaggio. Sequestrati 11 siti internet e due società con sede legale a mercato San Severino, proprietari di server collocati in paradisi fiscali come a Panama. Scommesse casino e poker online, alcuni anche su slot machine, erano imposti dai clan ad esercizi commerciali. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno portato all'individuazione di Giuseppe Cirillo, quale capo della holding Cirillo avrebbe investito parte degli introiti in immobili a Panama. A lui ed alcuni prestonomi sono stati sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro. È tutto da Napoli.